e poi Asuna, ma ti puoi anche muovere però eh Ennamota dai una mossa Asuna Asuna andiamo vieni che ti preparo gli gnocchi di Giovanni Rana Asuna vieni che la mamma ti ha fatto la bagna a cauda Asuna vieni e muovi questa pilletta di una peccora Ah! Asuna ma ti muovi, te la fia come stellante ma fai ca Andiamo! Ciao! Grazie a tutti.